Neanche 48 ore dall'ultimo fischio finale, la polemica è ancora nell'area in casa Fiorentina. Questa mattina la società Viola ha diramato un comunicato di ringraziamento e riflessione di fine stagione con un'analisi appunto polemica sulle statistiche. ACF Fiorentina desidera ringraziare Giuseppe Iachini, Cesare Prandelli e i loro rispettivi staff, si legge, tutti i calciatori della Rosa, quelli che rimarranno e coloro che seguiranno altre strade e il personale della società che in questo campionato molto complicato per i colori Viola hanno dato il loro supporto per chiudere e superare questa difficile stagione. I 40 punti ottenuti rappresentano sicuramente un risultato lontano dalle aspettative che tutti avevamo pronosticato a inizio campionato, anche se per chiarezza e verità il tredicesimo posto non rappresenta, come erroneamente riportato da alcuni media, il peggior risultato della storia della Fiorentina dal fallimento a oggi, dimenticandosi del 2004-2005, sedicesimo posto, e del 2018-2019, sedicesimo posto, come indicano la Lega Serie A e le classifiche ufficiali. Ciò non elimina comunque il dispiacere di non essere stati in grado di dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano e che insieme desideriamo e speriamo si possano realizzare a partire dalla prossima stagione. Ecco, il punto da chiarire però è un altro, perché per peggior Fiorentina post fallimento infatti si intende la quantità di punti ottenuti in una singola stagione, non il piazzamento finale. Infatti i 40 punti di questa stagione sono il peggior risultato a livello numerico raggiunto da parte della società Viola dal fallimento a oggi.